Signore, come mai è venuto il funerale? Perché Candito era una persona speciale. E a lei cosa ha dato? Che cosa? Che cosa le ha dato questa persona? I suoi sportivi. A me piacevano, una persona umana, una persona... Quindi cosa pensa che i giornalisti dovrebbero imparare da lui? Tantissime cose. Sono giovani, dovrebbero imparare tantissime cose. Lei nel giornalismo? Sì.